Dalla Nera e tutto lo staff importantissimo, è un evento internazionale tenuto in questo posto magnifico, il VUDEC, proiettati quadri, decantate poesie bellissime, immagini, anche parlato con le personalità internazionali egiziane. La nostra andandante lirica internazionale, Paola Occi, che ci ha dato quest'onore della sua presenza squisita, incantevole, e Bruno Mancini, tutto lo staff, la canola, la dolce canola, ex vincitrice del prezzo internazionale, 8 milioni dell'altro anno nel 2016! Mancini, 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 amore, con dei paisaggi meravigliosi, ha sposto tre mesi lì a Isca, che è incantevole, a Tassella d'Isca, nel museo del mare di Bruno Mancini, la basa da Bruno Mancini! Mancini, non devi fare la banditrice!